È la storia della ThyssenKrupp, ma non quella raccontata dai media e dai comunicati stampa dell'azienda. È la versione di Cicera e ha visto sette colleghi morire divorati dalle fiamme. Ma ThyssenKrupp Blues, documentario presentato stamattina a Teatro delle Energie grazie alla collaborazione con l'Accademia Libero Bizzarri, è qualcosa di più. È la storia di un operaio calabrese di 30 anni, che con sguardo soggettivo racconta la vicenda dal basso. Senza l'eco delle polemiche, ma con drammatico realismo, mesce la sua semplicità di ragazzo del sud alla consapevolezza di essere stato usato dal colosso tedesco. Carlo, il protagonista, vive a Torino e nell'aprile del 2007 la ThyssenKrupp, azienda per cui lavora, decide di smantellare lo stabilimento piemontese. Il 4 luglio annuncia agli amici di dover tornare in Calabria, perché con la cassa integrazione non può sopravvivere al nord. La partenza è dolorosa anche perché a Torino resta melita, amica ed amore mai consumato. In autunno, inaspettatamente, l'azienda lo richiama e gli operai fanno turni massacranti pur di non perdere la liquidazione. E proprio durante uno di questi turni, sette colleghi di Carlo vengono mangiati dalle fiamme per un incendio scoppiato in zona 5. Il giovane calabrese si salva perché ha fatto il turno del pomeriggio. Ma dopo la tragedia, la fabbrica, come da previsione, chiude battenti e con il cuore colmo di rabbia e dolore, il trentenne torna nella sua terra. Un viaggio lungo quello che da Torino lo porterà in Calabria. Un viaggio per ritrovare un equilibrio andato in frantumi. Al Teatro delle Energie, la regista di ThyssenKrupp Blues, Monica Repetto, ha raccontato la genesi del documentario. Inizialmente doveva raccontare la storia di quattro giovani operai. Tra questi, per caso, è capitato Carlo Marrapodi, che all'epoca lavorava proprio alla ThyssenKrupp. Mentre il documentario nasceva, però, è accaduta la tragedia dello stabilimento di Torino. E la storia si è concentrato su un unico protagonista. Lo stesso Carlo Marrapodi, un vero operaio che ha assistito inerme ad un vero dramma. Un giovane che a trent'anni può testimoniare come lavorare possa divenire sinonimo di morire in un battito di ciglia.